L'Asla Toscana Sud-Est prepara la macchina per la vaccinazione di massa. L'azienda sanitaria si è infatti già organizzata per essere così pronta per la fase 2, quella che coinvolgerà anziani e persone fragili. Due, le decisioni, la nomina di un responsabile unico per la gestione della campagna e l'istituzione di una cabina di regia aziendale che darà supporto al suo lavoro. Su proposta del direttore sanitario, il direttore generale D'Urso ha così nominato Anna Beltrano, direttrice della zona distretto Valdichiana, in carico che comunque continuerà a svolgere. Nella cabina di regia faranno parte i responsabili di tutti i settori aziendali che hanno a che fare con le vaccinazioni. Un lungo elenco, commenta D'Urso, che evidenzia da solo il peso che l'Asla assegna all'ormai imminente campagna di vaccinazione di massa. La decisione sui luoghi di vaccinazione sarà della regione toscana, prosegue il direttore. Noi abbiamo già sottoposto a Firenze le nostre proposte in relazione ai tre livelli che sono stati individuati, quindi macrocentri, quelli medi, cioè zonali, e quelli micro, ossia comunali. I primi saranno in grado di fare 800 vaccini al giorno, i secondi 400 e i terzi 100. Inoltre ci saranno le vaccinazioni a domicilio per le persone fragili. L'ipotesi, formulata dall'Asla sud-est della regione, prevede dunque tre sedi macro che saranno una per provincia. A queste si aggiungeranno poi 13 medie che faranno riferimento alle ex zone distretto e a completare la capillarità del servizio ci saranno nell'intera area vasta 99 sedi che faranno riferimento ai centri prelievi diffusi su tutto il territorio.